Sì dai, è normale che da quel giorno sono contento per aver regalato una grossa emozione non solo alla nostra squadra ma alla città intera che ci teneva tantissimo a questa partita. Di fronte abbiamo provato un buonissimo pari però abbiamo fatto una grande partita e va bene così dobbiamo continuare su questa strada qui. Marcello, quando avete capito che si poteva fare risultato? A noi siamo una squadra che fondamentalmente cerca di imporre il proprio gioco ovunque, sempre con rispetto e umiltà per l'avversario però siamo consapevoli che ce la possiamo giocare con tutti quanti. Sapevamo che di fronte siamo una squadra di qualità, di qualità superiore però questo non ci spaventava perché sappiamo bene quello che dobbiamo fare. All'inizio perché c'è stato questo momento che non si riuscita? Non mi riuscite? Non mi riuscite? Non mi riuscite? Non mi riuscite? Avete avuto un po' di ricicliettivi? Come ho detto prima, di fronte c'è una squadra organizzata, quindi un momento di assestamento che oggi sta, non si può proporre un calcio di quel genere per l'anno Arca del Mundi. C'è anche da soffrire perché di fronte comunque sia c'avevi un'ottima squadra. L'abbiamo fatto, siamo stati in combattia e poi abbiamo preso le misure e siamo riusciti fuori. Grazie. 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 Grazie.